Sì, sentite! C'è un compresente che non ho comunicato in casa, capisci? Però io! Ma lei! Io solo ti dico questo che c'è. E' il decorgiano che c'è. Puoi girare, ma deve guardare lei, non me. Eh! Guarda! Guarda me e guarda qui! Perché è normale, che quando veniamo noi è un altro piccolo. Perché? E noi siamo qua per farci controllare. Non l'abbiamo messo qua prima. Francesco, ti annuncio che siamo in Belgio qua, eh! E nessun altro. Io sto controllando lei questo. E poi controlerò altri. E io mi sarò qua a meno un'ora per vedere quante persone controllate dopo. Ok. Smetta l'aveto, eh! Dove vuole lei? Voglio vedere quante persone controllate dopo di me. Ed è un programma dove presentano tutti, diciamo, i criminali che ci sono in Italia. a cominciare le totorina, eccetera, eccetera. Un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti.